Ciao SimoSy fans, io sono Simone, lui è Simone e questa è la SimoSy SimoSy channel, tutti in coro, un, due, tre, SimoSy bandolero, un, due, tre, inizio il video per voi Oggi andremo a fare un prank, ahiaia, un prank speciale Cioè lei tutti i giorni ci ha dato a fare i compiti, noi andremo là e semplicemente gli distruggeremo tutto Sì esatto, dammi questa cosa Quindi ragazzi gli andremo a distruggere tutti i compiti, la distruggeremo psicofisicamente e niente, vedremo la sua reazione che sarà molto brutale Ma prima ragazzi vi facciamo vedere una cosa fighissima, il tetto, spieghiamo il perché Chi sono oggi? Un bel cretino sicuro No, chi sono oggi? Super Simon Ok, queste scale stanno qua tipo dall'ottanta Oddio, bellissimo, sai che prank vuole da qua? Mentre passa Allora ragazzi ci è venuta adesso un'idea in mente super mega figa Praticamente, tutto a posto, io c'ho super potere Praticamente, dopo che rompiamo i compiti, faremo SimoSy che lei corra, vada di fuori in giardino e da qui sopra, oh io, Simone, splash l'acqua col freddo gelido del 9? 9 febbraio Ah, 9 febbraio, oggi è il mio mesiversario con Linda Oddio Che carino Basta con Linda Vabbè, comunque perché qua sotto è dove sicuramente Yo-Yo passerà per incorrerci dopo che abbiamo distrutto tutti i compiti Quindi ragazzi, prima che inizia il video vi ricordo di andarmi a seguire su Instagram SimoDeBianchi E SimoDeCarGiuli Superman Giuseppe butta, è matto Quindi ragazzi, c'è da dire però che i compiti non sono i suoi veramente, cioè si sono veri però sono fotocopiati, infatti dovremmo prendere la fotocopiatrice Hashtag fotocopiatrice, ci siamo, e quindi fotocopiere, fotocopieremo, i fotocopieremo i compiti e niente, andremo lì Ila, questi sono i tuoi compiti Strac, lei allora, boom, 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 botte, pugni, zainate e tutte queste cose qua, Simone perché ridi? Stai prendendo un giro? No Vado nella mia patcaverda Esatto, giusto là Adesso Simo, entriamo, tu la distrai e io, io la prendo i compiti Ma che stai facendo? Ma ancora? Ma che fai? Ma che vuoi? Che cos'è? Perché stai vedendo un video? Vabbè Ma rega, greve, Ilaria sta di là e sta fotocopiando i compiti che è quello che volevamo fare noi Quindi in teoria ci sta tipo avvantaggiando però perché potremmo rompere quelli Eh no perché mo' lei ci scrive la sopra, io dobbiamo fare la fotocopia della fotocopia Madonna Quindi adesso tu vai di là, la distrai e io vado a rubare il quaderno Top Gli hai presi? Allora Simo, sì, ce l'ho presi Scienze, geometrica, matematica Questa è greca, ragazzi Gli strappavano tutti i compiti di matematica e geometrica Sì, dobbiamo andare a fare le fotocopie Sta ancora a fotocopiarle Eh, non lo so Andiamo a vedere, andiamo a vedere che sta a fare Che sta a fotocopare? Tutto il libro? Ma tu stai a coprire i compiti Ma che cosa stai dicendo? E perché hai fatto copiati? Perché devo cosa acquistare? Che devi fare? Perché mi devo te la colla? Perché dobbiamo capire tra quanto è finito Ma io non li faccio, vi dico voi No Oh, te ne vai? Eh Dai No Grande Saluta il video, yao Saluta il video, yao Saluta il nostro nuovo video Devo scrivere a Linda Scrive a Linda È arrivato a pendio Ho fatto la foto Alle cose fotocopiate Così ci avvantaggiamo Se no, gli dovremmo rubare quello Io ho un quaderno di matematica E gli strappiamo con lì la matematica E ciò E quelli d'inglese Che sta facendo adesso Prendiamo la fotocopiatrice adesso La montiamo Stampiamo le foto Perché altro si può stampare Con le foto tramite bluetooth E niente E poi dopo Inizia lo scherzo Hashtag Ya, yao Fottuta Dobbiamo far silenzio Perché lei Se no se ne accorge Questa è perfetta Come si farà qua? Allora Snap Dai, 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 dai Una copia Bianco e nero Questa è uguale Per il momento Dai, Rita Che va così È normale E non è che mi si mette la testa tutto Vedi se sta stampando Regà, è mezza finita la cartuccia Pure l'inchiostro doveva finire Allora ragazzi Ci abbiamo trovato Come sempre ci dice male E questo è il risultato Praticamente L'inchiostro è finito Quindi Ne allangiamo con queste E non vi preoccupare Il risultato riesce Vai Vai Adesso Prima di fare La montadelli Dobbiamo mettere il secchio d'acqua sopra Però poca 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 ma deve piante Allora ragazzi Finalmente possiamo di nuovo Urlare Fare I matti Ok Le foto dei compiti ce le abbiamo Non sono perfette però Sti cavoli Adesso dobbiamo trovare una bacinella E ci metteremo l'acqua E la metteremo su Poi quando Succederà il tutto Simone riprenderà Io andrò su E Flash Ok raga Abbiamo trovato Il secchio Si è incastrato Andami Ci stanno i vesci Tira Tira Non lo facciamo così Lo sciacquiamo questo Perché dai Ok ragazzi L'abbiamo Diciamo pulito Ora lo riempiremo Così dai Non troppo No dai un altro po' Sono meglio Adesso Lo riazzeremo Quassù Adesso non mi odi salire Io riprendo Tu riprenderei Allora ragazzi Questa è la seconda telecamera Quindi Ci sei Ci sei Non ci sei Ci sei Ci sei Stava per far il volo Dalla madonna Qua c'è sta vento Quindi speriamo non casca Perché ha iphone 12 Brr 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 No Allora raga Adesso noi andremo E faremo lo scherzo Dei fogli Poi Una volta che abbiamo fatto lo scherzo E succederà il tutto Simone poi dovrà Inbloccare Per un minuto Perché è il tempo Che io devo salire Sopra Dalla Ti dovrei tipo Fansegui Quindi Vedi tipo No Tu prendi Portati via il quaderno Quello giallo Io la placco Non la faccio Passa tu intanto Corri su Vai Ok Vai Torna a casa Ma che combinato No Sì 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 E chi dovrebbe andare via Questa è come i compiti Ma dove Riguarda il filmetto Nel frattempo Che fai balloina Facci vedere Vieni andare No Dai Fammi vedere Devo fare una clip Te ne vai Ma perché sei così cattiva Non puoi essere sempre così cattiva Con la vita Andate via Mi chiedi fare una clip No Faccio una clip O me ne avevo Gira il foglio Ok Dammi i fogli Dammi i fogli Ma questi Vedi che stanno male Te li strafo Ma non mi servono Strafo E non ti servono E perché resti Anfati Oh cosa non capisci Che devo copiare questi Via No io chiamo mamma Vedi rotto Io devo fare i compiti Dammi qualcosa Inseguici Inseguici Simone dammi qualcosa Inseguici Vieni Non ce li ho io Non ce li ho Non ce li ho Guarda che lo strappiamo Se non vieni Vai Ti conviene venire Ti conviene venire Vieni stanno qua Affacciati alla finestra No E allora peggio per te Non li avrai mai Stai sbloccare Cilencia Guarda che stai affanascinata A faccia della finestra No A faccia della finestra Oh me i porti Vai a prenderlo Vai a prenderlo Oh li vai a prenderlo Sei più cazzo Intanto questo Nevati Oh oh Io vi ammazzo No veramente Vai vai cazzo Vai 1 2 3 Dipende 3 3 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13 13 13 13 19 19 Aio 15 21 21 22 23 19 Oddio il video più bello del mondo si 5000 like per sto video ve lo dico adesso Mi apri? Io sono il proprietario di casa Ilaria 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 viene ad aprire No Ilaria aprimi Niente un video perfetto ho finito Ma pure te ma bloccala no Ma che ti devo spezzare Ilaria Prank è riuscito Finito male Prank è riuscito finito male Per lei Per questo video raggiungiamo 5000 like E iscrivetevi A ragazzi è vero Se raggiungiamo anzi No se lo raggiungiamo E al 100k su youtube ci sarò un video speciale Quindi ragazzi vi conviene iscrivervi Mettere like e seguirvi Da qua da là da qua da là Anche per vedere Ia iao che sbronca Bella A presto A presto A presto Grazie a tutti.